Devono accorciare il primo uomo sul segno. Il primo uomo sul segno. Il primo uomo sul segno. Alzatevi! 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 Alzatevi. Alzatevi! 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 Brett! � entrevi! E' il topo, serpente, scuola! Non è la mia attenzione! 20 secondi 30 secondi 15 al termine 5,4,3,2,1 30 secondi 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 31 30 31 Classifica della prima serata. Ottavo posto, tolto, 22 punti. Settimo posto, squavo, 23 punti. Sesto posto, formiga, 24 punti. Apparimento con i cani, 24 punti. Quarto posto, conto, 29 punti. Terzo posto, serpente, 30 punti. Secondo posto, del primo, 25 punti. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti